Ross, dosso, vai, 100, molta attenzione, sinistra 4 diventa 2 alla casa, diventa 2 alla casa 200 rotti, alla casa, attenzione che qua c'è quel dosso bastardo, in accendo destro e al muro diventa, destra 4 scende, attenzione, destra 4 scende, sinistra 2, sinistra 2 destra 2, molto sporco paglia, a rosso, sinistra 4, attenzione sporca, accenno destro per sinistra 4 sconnesso, sporco, per subito destra 4, per sinistra 4, 50, occhio che qua c'è l'inversione occhio che qua c'è l'inversione 50, accenno destro, è un po' sporchina, 30, sinistra 5 umida per accenno destro, 50, destra 3 no, destra 3 no, 20, in destra 1 leva, umida 100, sinistra 4 sporca la macchina fotografica la vedete ben vicina eh la macchina fotografica la vedete ben vicina eh destra 2 è questo qua poi 100, 5, 4, 3, 2, 1, vai destra 2, 100, alla piglia destra 2, destra 2 200, al race sinistra 3 scivola, sinistra 3 scivola non abbiamo bisogno di fare niente di che, scivola qua al cartello sinistra 2 scivola, sinistra 2 scivola destra 3 no, destra 3 no, 100, destra scivola, è qua la macchina sinistra 3 scivola 200, destra 4 qua, attenzione, sconnessa l'ho capito, non dico dov'è no? al SR, accendo sinistra 200, sinistra 3 no, scivola destra 3 no, scivola, per destra 2 molto sporca destra 2 molto sporca, per subito sinistra 3 no, no, scivola, scivola ehi là beh fai occhio qua eh 50, destra 2 chiude molto e scivola chiude molto e scivola 20, tornante sinistro no e scivola tornante sinistro scivola sinistra, eh occhio qua sinistra 3, subito destra 3, sporca e scivola accendo sinistro 50, attenzione l'inversione qua c'è sinistra, inversione sinistra occhio non è arrivato un po' forte bella, occhio giù di qua adesso eh 50, destra 4 qua, sporca sinistra 4 sporca, sinistra 4 50, alla paglia destra 2, destra 2 30, sinistra 2 scivola, sporca 20, destra 2 scivola destra 2 scivola, sinistra 3 in destra 4 vai, in destra 4 vai all'albero, destra 4 50, sinistra 3, sinistra 3 destra 4 vai no, destra 4 all'albero destra 4, 20 attenzione, destra 3 attenzione, destra 3 attenzione, dosso vai messo, sporco destra 4, sinistra 4 50 e c'è l'inversione qua c'è l'inversione, occhio non è andato troppo lungo non è andato troppo lungo non è andato troppo lungo e altro detto 50 mangiato bastardo accenno destro, 30 sinistra 4, umida in accenno destro pubblici 3 no, adesso c'è di noi l'inversione, non è arrivato di nuovo lungo, inversione destra, occhio, 100, sinistra 4, sporca, sconnessa, all'SR accenno sinistro, 200, sinistra 4, lunga, no, stai a destra, occhio che scivolerà. Al palo, vedi, destra 3 no, per destra 2, molto sporca, scivola, destra 2, attenzione, 50, destra 5, 150, alla casa, destra 4, destra 4, scivola, scivola qua e sale, 100, destra 5, sinistra 5, dosso, attenzione, destra 3, attenzione che adesso c'è col sinistra 1 bastardo là, non tagliare, sinistra 1 qua, no, destra 3, attenzione, sinistra di no, 2, sporca, sinistra 2 sporca qua, destra 3, 30, accenno sinistro, 50, attenzione che c'è l'inversione adesso, c'è l'inversione, se la vedi l'inversione? che cazzo è, è qua? c'è occhio giù di qua adesso, eh? beh, intanto non vedo niente, vado qui, accenno sinistro, subito, accenno destro, sinistra 4, sconnesso e sporco, subito, destra 4, per... sì, wow, sinistra 4, molta attenzione che qua c'è l'inversione, molto, piano, occhio eh Dio vai 50 eh, te l'ho detto accenno destro 30 sinistra 5, umido accenno destro attenzione che destra 3, no, destra 3, no 20 occhio qua di nuovo l'inversione, eh? perché se perdiamo di nuovo un casino di tempo, occhio piuttosto farla un po' più piano 100 oh, che sei sinistra 3, sporca sconnesso per all'albero sinistra 4, sporco scivola, sporco scivola due... vabbè, 200 a vista ma deve fare il giro per me non è 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 ma deve fare il giro per me non è non è non è non è Grazie a tutti.